Eccoci bentornati su GoGames, siamo su Pokémon Scarlatto e in questo video vedremo dove trovare Slakot, come catturarlo. Vi faccio vedere la mappa, siamo esattamente in questo punto qui e prendiamo come punto di riferimento Mesapoli o Lost Azones o comunque questo punto qui, Torre di Vedetta dell'area 3 Sud. Se ce l'avete sbloccato vi teletransportate qui e da qui venite in giù e fate questo percorso. Poi da qui se voi prendete questo albero e guardate su, lo vedete? E' lì sopra appollaiato. E' abbastanza raro che lui ci sia, non c'è sempre. Quindi facciamo un po' di pulizia qui intorno. E cerchiamo di farlo venire giù. Eccolo! Quindi voi date un'occhiata sull'albero, se non c'è, vi ripeto, fate qualche giro, fate fuori un po' di Pokémon, catturateli. Prima o poi sicuramente lo beccherete lì sul ramo, tra questo albero e quello di fianco. Lo andiamo a catturare. Pigrone. E' fighissimo Slakot. Ok, proviamo con una Poké Ball normale. E' niente. E' niente. e lo abbiamo catturato. Qui se siete particolarmente fortunati trovate anche eccolo lì l'evoluzione Vigoroth eccolo qua proviamo a catturarlo anche lui visto che ci siamo discretamente fortunati oggi devo dire la verità e e e e e e e ed ecco qui abbiamo catturato anche l'evoluzione di Slakoth per questa video guida è tutto vi ricordo di lasciare un like iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutte le prossime uscite che arriveranno vi ringrazio per averci seguito e alla prossima e 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